buonasera a tutti questa sera il nostro viaggio in piemonte ci porta ad alessandria città è un video che io voglio fare come ho fatto per il negozio di acquaria land emporium che un negozio di acquari pesci e accessori che si trova a torino ho caricato un video andate a vederlo è molto interessante e adesso ovviamente trattiamo un altro argomento e si chiama maino auto ricambi avrete capito già che si parliamo di un ricambista pezzi di ricambio insomma auto e accessori e adesso vi faccio vedere altre due foto di questo ricambista dopodiché vi darò qualche altra informazione allora un po così una foto panoramica ecco questo è il negozio sono due vetrine oltre la porta d'ingresso ecco vediamo come vi dicevo a sinistra abbiamo la porta d'ingresso con una piccola vetrina a destra un'altra vetrina e poi di rato l'angolo un'altra vetrina ancora cioè il negozio è piccolino non è enorme comunque c'è tutto è necessario e si trova in via mazzoni 6 appunto ad alessandria è un video che io voglio fare è una pubblicità che io voglio fare in maniera totalmente gratuita i proprietari non ne sanno nulla però mi sembra giusto ecco dedicargli un piccolo spazio nel mio canale per il semplice fatto che per carità di ricambisti auto ad alessandria ce ne sono tanti altri e lavorano bene e sono bravissime persone perché ci sono stato non so mi viene in mente auto tractor in corso monferrato oppure autoricambistadio vicino allo stadio mocca gatta e però io da qualche anno e quando ho bisogno di qualche ricambio auto qualche accessorio per la mia macchinetta vado sempre e solo da maino sono padre figlio il figlio che si chiama claudio il padre non mi ricordo e posso dirvi che li troverete cordialità gentilezza simpatia professionalità perché vi danno anche dei consigli per qualche dove possono ovviamente e danno dei consigli quindi sono molto preparati disponibilità e dicevo competenza e simpatia tante altre cose perché li trovo veramente molto simpatici e molto molto disponibili io una piccola un piccolo aneddoto io qualche anno fa avevo una macchinetta un po' vecchiotta e dovevo cambiare le candele e montava le candele all'iridio quelle un po' più speciali un po' quattro candele 80 euro insomma un prezzo per la macchinetta che era è un prezzo abbastanza elevato comunque ho chiesto a loro suo figlio claudio perché è lui quello che si occupa di vedere un attimino su computer eccetera perché parte di solo di quello che serve un po' i clienti no si occupa il servizio alla clientela comunque alla fine si sono messi lì e mi hanno trovato le candele a 6 euro l'una stesse caratteristiche ovviamente stessa resistenza stessa stessi dati tecnici della candela perché non puoi mettere una candela qualunque in una macchina fatto sta insomma che mi hanno trovato una candela si fa i suoi 20 mille chilometri anziché 30 40 dell'iridio però spendo 24 anziché 80 per la macchina che era insomma già è un ottimo prezzo però voglio dire e altri ricambisti mi davano la sua e basta invece questi qui si sono messi lì e con la loro con tanta pazienza finché mi hanno trovato mi hanno un po' risolto fra virgolette problema quindi ripeto da da allora diciamo così che sono un cliente fidato e quando ho bisogno di qualche cosa che riguarda la mia macchinetta mi fornisco sempre da loro perché parte dicevo la gentilezza e tutto in confronto agli altri ricambisti hanno prezzi anche leggermente i più bassi e quindi qualche euro lo risparmiate da da maino per carità io adesso non voglio il mio ricambista di fiducia vado vado sempre del merito va bene ci sta c'è non voglio assolutamente portarvi via no dal proprio ricambista però però come alla fine siete voi che spendi dei soldi e quindi come dico io ogni volta i soldi sono i miei faccio quello che voglio quindi io un salto da maino certo se siamo ad alessandria vi trovate a passare da alessandria da torino da novara non parto almeno che debba fare una spesa mille euro duemila euro allora per risparmiare va bene ma se siamo lì in zona allora magari un salto da maino io lo farei perché secondo me vi troverete bene i prezzi vi ripeto sono veramente eccellenti comunque non aggiungo altro se non quello di salutarvi come faccio di solito con quando mi congetto con un abbraccio affettuoso al prossimo video ciao